Ben ritrovati cari amici telespettatori con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria in arrivo da domani l'anticiclone azzurro che porterà dal Nord Africa una nuova ondata di calore e farà arrivare la colonnina di Mercurio anche a 38-40 gradi. Gli esperti annunciano pure un incremento dei tassi di umidità ma già da domenica l'instabilità ricomincerà a farsi evidente sull'area alpina e l'alta pianura padana. Intanto però aumentano le temperature e di conseguenza torna a far preoccupare la presenza di ozono in molte città tra cui Genova dove sono stati 5 gli sforamenti rilevati dalle centraline della città metropolitana di Corso Firenze e Acquasola. L'invito è quello di limitare l'esposizione all'aria aperta dei bambini, delle persone anziane e di quelle con problemi respiratori e come sempre di evitare di restare sotto il sole nelle ore più calde della giornata. Dopo gli attentati che hanno sconvolto la Francia e la Germania nelle ultime settimane resta alta anche nel nostro paese l'allerta terrorismo. Solo ieri venivano arrestati a Savona due marocchini affiliati all'Isis. Ma quanto pesa sulla quotidianità di ognuno di noi la strategia del terrore? Alessandra Della K lo ha chiesto proprio alla gente comune. È un momento storico in cui forse ci si chiede una volta in più se è il caso di prendere un treno, se è il caso di spostarsi, se è il caso di muoversi. La parola terrorismo purtroppo continua a tornare nella nostra vita e allora ci chiediamo se davvero bisogna continuare a vivere, a vivere normalmente per contrastare la paura del terrorismo oppure se qualcosa è cambiato nelle nostre abitudini. No, è uguale, prendo sempre il treno comunque perché comunque ne vale il mio futuro. Onestamente no, sono abbastanza tranquilla. Ma no, sinceramente in questo momento no perché credo che siamo abbastanza protetti e abbastanza bene, credo sì. Noi continuiamo a vivere ma con un po' di paura anche perché con la gente lì non si sa mai chi si incontra. Io se è disponibile ad essere il governo, guai, in 24 ore li manderei a casa sua. Cerchiamo di non pensarci soprattutto perché se ci chiudiamo in casa noi, mentre dovrebbero essere loro chiusi, non si andrebbe più amanti. Anche con le mie figlie, glielo dico, occhio aperti. Io continuo a vivere la mia vita normale come prima, stanno ovviamente un po' più attento, soprattutto nei posti dove c'è un po' più di assembramento. Però per il resto la mia vita non è cambiata. No, mi muovo però so che non è... Cioè è difficile. Cioè pensare di avere anche dei bambini, dei ragazzini così... Un po' di paura c'è sinceramente. La linea adesso alla nostra redazione di Torino. Un bentrovati a tutti i telespettatori. Dopo il no degli editori al Salone del Libro di Torino, con spostamento paventato a Milano, sono arrivate le reazioni della sindaca Chiara Appendino e del governatore Sergio Chiamparino. Con una certezza il Salone 2017 si farà ancora a Torino. Andiamo avanti per la nostra strada. Il Salone del Libro è un valore aggiunto per Torino e il Piemonte e l'edizione 2017 si farà. È il diktat dell'Appendino. Lavoreremo con gli editori che non la pensano come dottor Motta e che si renderanno disponibili. Inizia ora una nuova fase per rilanciare il Salone con progetti innovativi, potendo contare sul supporto del Ministero dei Beni Culturali, del MIUR della Regione Piemonte ed Intesa San Paolo. Appena insediati, anche per l'eco di rompente dell'inchiesta, che ha portato alle misure cautelari di diverse persone, abbiamo azzerato i vertici della fondazione e rinegoziato il contratto con GL Events, ottenendo il dimezzamento dell'affitto e un sostegno finanziario, ricorda la prima cittadina. Sapremo, ha concluso l'Appendino, cogliere l'occasione per rinnovare il format, per rendere Torino ancora di più la capitale del libro e della lettura. Dello stesso avviso, Sergio Chiamparino, non possiamo puntare a fare due saloncini, ha detto, vogliamo un progetto che ci permetta di iniziare un altro ciclo trentennale del Salone del Libro a Torino. Ora ci spostiamo e parliamo di disabilità. Linguaggio semplice, chiaro e immediato. E la nuova guida alle agevolazioni per le persone disabili. Andiamo insieme a scoprirla nel prossimo servizio. Una buona comunicazione per un aiuto concreto. Con questo spirito, la Regione Viemonte e la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate hanno messo mano all'edizione 2016 della Guida alle agevolazioni fiscali e ai contributi regionali per le persone disabili. Con un linguaggio semplice, chiaro ed accessibile, la guida fornisce indicazioni di tipo pratico e di immediato per orientarsi attraverso le opportunità concesse dalla legislazione fiscale e dalle forme di sostegno attivate dalla Regione Piemonte con lo scopo di facilitarne l'accesso da parte delle persone disabili e dei familiari che li assistono. La nuova edizione della guida è parte integrante del percorso di avvicinamento che l'Agenzia delle Entrate ha intrapreso per rispondere alle esigenze informative dei cittadini. Così commenta l'iniziativa il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Paola Muratori. È importante, e questo è stato sempre apprezzato, poter intervenire in modo efficace per facilitare la vita quotidiana dei nostri concittadini, in questo caso attraverso la diffusione della conoscenza delle disposizioni di vantaggio destinate alle persone disabili. Il ringraziamento alla Regione Piemonte è doveroso per averci offerto ancora una volta l'opportunità di partecipare ad un'iniziativa molto utile. Anche in questo caso la sinergia istituzionale rappresenta il velo valore aggiunto per i cittadini. La guida sarà disponibile sui siti web della Regione Piemonte e dell'Agenzia delle Entrate al sito piemonte.agenziadeleentrate.it Restiamo in tema perché è online il portale bookingable.com per il turismo delle persone con disabilità. Disponibilità di camere attrezzate, pacchetti turistici, ma anche servizi di noleggio. Per ora le informazioni riguardano il Piemonte, ma presto si estenderanno a tutta Italia. Sentiamo. L'obiettivo di bookingable.com è quello di creare un sistema di prenotazione online con informazioni dettagliate, aggiornate e affidabili sull'accessibilità, in modo da consentire ai viaggiatori con disabilità la possibilità di prenotare direttamente camere, soggiorni e servizi turistici con garanzie di buona fruibilità. Il portale è stato lanciato alla presenza dei rappresentanti dei promotori del progetto, vale a dire l'ISIT, l'Istituto Italiano per il Turismo per Tutti, il settore turismo della consulta per le persone in difficoltà di Torino, insieme alla fondazione CRT, che ha messo a disposizione il contributo finanziario necessario a realizzare l'iniziativa. Negli ultimi anni si sta lavorando parecchio per iniziare a rendere accessibile o perlomeno usufruibile le città e i vari luoghi. Torino è sicuramente una delle città che negli ultimi anni ha dato molto e Booking Able ne ha un esempio, nel senso che con Fondazione CRT si sta iniziando a vedere anche il turismo, quindi tutto quello che riguarda il mondo del turismo accessibile, rendendolo accessibile sia dal punto di vista proprio dell'utilizzo, ma anche del ritrovare informazioni, piuttosto che pacchetti turistici e alberghi accessibili. La parte principale del portale è dedicata agli hotel. All'interno degli hotel sarà possibile visionare la scheda di accessibilità, che è il nostro punto forte, attraverso la quale ogni utente potrà autovalutare da solo qual è la struttura più adatta a sé. La prenotazione sarà online, con carta di credito a garanzia. Ci sarà anche la possibilità di abbinare dei servizi turistici, perché Booking Able è un portale turistico e quindi oltre agli hotel si può organizzare tutta la vacanza con l'assistenza del nostro call center, del call center Booking Able. Sarà anche possibile acquistare pacchetti online preparati dai nostri tour operator. Ad oggi siamo sul Piemonte, ma nei prossimi mesi avremo tour operator, che saranno i nostri referenti in diversi territori italiani. Molto bene, per ora dalla redazione di Torino è tutto. La linea può tornare a Chetti, Porcellu. Noi riprendiamo con la cronaca. Pericolo scampato l'altro pomeriggio per due ragazzi di 21 e 26 anni residenti nell'Alessandrino, che gridando animatamente stavano camminando lungo la linea ferroviaria in direzione di Acquiterme. Gli agenti di polizia, nonostante stesse sopraggiungendo un treno regionale con i dispositivi acustici ripetutamente attivati, sono riusciti a raggiungere la coppia e a metterla in salvo. I due, che sono stati sanzionati dalla polizia ferroviaria, hanno poi raccontato che a causa del litigio non si erano accorti di essere in mezzo ai binari. Deferimento in stato di libertà per due genitori di Ovada e per una mamma di Sezzadio che non mandava a una scuola i propri figli per gravi mancanze di controllo. Ad accusarli i carabinieri di Acquiterme, che hanno eseguito una serie di controlli nei vari istituti scolastici dalla propria giurisdizione, per verificare proprio se vi fossero casi di assenze sospette tra gli alunni. Molte le segnalazioni, tra cui quelle di due ragazzini delle scuole medie, che proprio a causa delle tante assenze sono stati bocciati. Al termine delle indagini, i militari hanno accertato che i rispettivi genitori non li mandavano a scuola per completo disinteresse nei confronti dell'obbligo di istruzione dei propri figli. Taglio del nastro a settembre per il parco Eternot di Casale Monferrato, una vastissima aria che sorge sulle ceneri dell'Eternit. Sarà una struttura polivalente, con tanto verde e obiettivo, cercare di lenire, se si può, il ricordo di una delle più orribili pagine di cronaca dell'Italia e non solo. Far crescere la vita in un luogo di orrore e di morte. Nessuno potrà mai dimenticare le centinaia e centinaia di morti che l'Eternit di Casale Monferrato si porta presso, ma da un punto si deve ricominciare, per la memoria, per il futuro. E la città ha scelto di ripartire proprio dalle ceneri della fabbrica dei veleni per costruirci sopra 30.000 metri quadrati di parco, il parco Eternot. Il taglio del nastro è previsto per sabato 11 settembre. Ci saranno il commissario europeo, con delega all'ambiente Carmè Nouvella, i ministri Gianluca Galletti e Andrea Orlando, il prefetto di Alessandria Romildata Furi, il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino, gli assessori regionali Alberto Valmaggia e Antonella Parigi e poi ancora tutte le principali autorità della zona, con in testa il sindaco di Casale, Titti Palazzetti. Il parco sarà caratterizzato da aree giochi, da un polo sportivo, da un'arena per ospitare gli eventi e da percorsi ciclopedonabili. Ci sarà anche l'archivio a Mianto e uno spazio per il co-working. Ad abbelliere l'area poi anche due monumenti, il primo ad opera di Gea Casolaro, vincitrice del bando che era stato indetto, la quale ha realizzato l'albero dei fazzoletti, e poi l'aquilone di Romana, a ricordare Romana Blasotti Pavesi, che ha visto la sua famiglia sterminata dall'amianto dell'Eternit e che ha fatto della sua vita una battaglia. Supernutrito il programma dell'inaugurazione del parco Eternot, che presto diventerà la casa simbolo della rinascita, laddove ogni fiore avrà il compito di rendere più lieve l'orrore dell'avidità umana. Si trovano poco distante dall'ingresso della chiesa di Santa Maria di Castello ad Alessandria e sono datati in un periodo antecedente, l'Ottocento. Sono i reperti umani rinvenuti nel cantiere dove sono in corso i lavori di recupero degli spazi davanti a uno dei monumenti simbolo del capoluogo di provincia. La chiesa di Santa Maria di Castello è infatti la più antica di Alessandria. La sua fondazione risale al 1100. Proprio attorno a questo imponente edificio è avvenuto il ritrovamento, appunto li state vedendo, di materiale interessante per la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, che ha predisposto saggi a campione per poi ricoprire il tutto in seguito dalla nuova pavimentazione. Le Camere di Commercio contestano con forza la riforma che il Governo vuole chiudere in questi giorni estivi puntando ad alleggerire gli oneri a carico delle imprese, cioè il famoso diritto annuale. Per i sindacati invece con questo decreto legge si metterebbe a rischio il 15% dei 7500 lavoratori dipendenti degli enti camerali e si peggiorerebbe fortemente il supporto alle imprese in un momento di crisi economica. De De Vinci. Senza mezzi termini l'hanno definita una riforma distruttiva e penalizzante. È quella che il Governo si appresta a varare sul riordino delle Camere di Commercio in Italia. In una lettera firmata da circa 70 città e indirizzata oltre che al Governo, in particolare ai Ministri per la semplificazione, la pubblica amministrazione e lo sviluppo economico, si mette in chiaro quanto questo provvedimento si rivelerà un danno per le imprese e per i professionisti e per i lavoratori degli enti camerali. Nella lettera indirizzata anche agli organi di stampa si sottolinea come questo sia un periodo storico-economico in cui è necessario potenziare gli strumenti al supporto del mondo del lavoro e quindi potenziare le Camere di Commercio. Il Governo invece vuole ridurle a enti burocratici che non saranno più in grado di offrire servizi moderni alle aziende italiane. La strada della riforma della pubblica amministrazione deve essere la stricata di innovazione, non di riduzione delle Camere di Commercio, dei servizi alle imprese, dei dipendenti. Per far ripartire il sistema imprenditoriale italiano continua la lettera, le Camere di Commercio vanno rafforzate con servizi nuovi e innovativi che vadano a sommarsi ai servizi attualmente esistenti. Nella missiva indirizzata al Governo si fa un lungo elenco di tutti quei servizi che le Camere di Commercio non potranno più offrire alle imprese già da subito dopo la riforma che dovrebbe passare il 29 luglio. Il sindaco di Acquiterme Enrico Bertero ha incontrato la nuova proprietà delle terme, si tratta della FinSystem di Genova che entro la fine di settembre presenterà un dettagliato piano industriale. C'è la volontà di ristrutturare l'hotel Regine e fare investimenti sul grande hotel Nuove Terme, su fanghi e vendita delle acque, sulla riabilitazione motoria, oltre che sul settore benessere. Tra le ipotesi di recupero da parte della società genovese ci potrebbe anche essere il complesso delle vecchie terme militari di zona bagni oggi in degrado. L'amministrazione comunale di Ovada sta invece aspettando di sapere se potrà vendere o meno l'extazione dei tram di Piazza Castello. E questo è infatti un edificio storico e per questo motivo, prima di pubblicare il bando, l'ufficio tecnico di Palazzo Delfino deve chiedere il benestare alla soprintendenza che non dovrebbe comunque opporsi all'operazione. Il comune vorrebbe ricavare dalla vendita almeno 323 mila euro, valore stimato dell'edificio secondo una perizia commissionata da tempo. Ci sono novità a Novi Ligure sulla raccolta rifiuti. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Rocchino Muliere aderirà infatti all'associazione Onlus Spreco Zero Punto Net che ha lo scopo di insegnare alle persone a ridurre appunto gli sprechi alimentari. L'idea è stata recepita dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Fabrizio Gallo che l'aveva inserita nel programma quando era candidato a sindaco della città. Bene, tra poco vi lasciamo alla pagina sportiva doppio appuntamento di calcio mentre c'è attesa per l'incontro dell'Alessandria che domenica sarà impegnata allo stadio Moccagatta contro il Teramo nella Team Cup a Tortona c'è invece molta rabbia per il fallimento del Dertona attualmente fuori da ogni campionato. Dopo la pagina sportiva le previsioni del tempo la rubrica delle notizie utili grazie come sempre per averci seguito e noi ci rivediamo più tardi. Arrivederci.